vieni su di qua va la miretta e vabbè attraversa e fa il giro la fan fuori perché non è anche toccata mi sa che ho peggiorato sai che io vado su di lì da lì non puoi poi devi girare un ferro non ci stai dentro ma fai starci dentro lì non vieni non ci stai provo 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 di là allora non partisci più e vado via e non mi incastro più però non ti incastri almeno vaffan cuore un po' mi sono scaldato eh figaro eh vabbè ma quelli quelli poi cadono ti ha salvato quel sasso lì ti ha salvato quello ti ha salvato eh ma lì vedi ti incastri dentro figaro è brutto eh cacchio l'altra volta è stato lì un quarto d'ora ah no io vado su di là vai 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 tanto ti filma lui se no o stai per ultimo se no di qualcuno tre uno ti filma non puoi scappare uno dei tre ti becca uno dei tre ti becca eh vai siete in tre con la telecamera adesso non è uno solo vito tre eh ma te hai fatto così eh no ma che non è tutto no quando ti faccio di lì hai ragione cacchio che qua quanta schifetta può star via ancora oh non fermarti eh grazie ti tieni la seconda e lasciata andare non ti fermare bravo bravo lele bravo 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 lele Grazie a tutti.